La storia di Kanyaman e Dimet Özdemir appare come una storia di relazione seguita da vicino dai telespettatori turchi e risuona nella cultura popolare. I due, che hanno conquistato l'amore di milioni di persone grazie alla serie Erkenci Cus in cui hanno condiviso i ruoli principali, sono diventati un fenomeno sullo schermo con la loro armonia e calda energia. La coppia, che ha attirato grande attenzione da parte dei fan, ha continuato ad attirare l'attenzione sia nella vita privata che professionale dopo la serie. La loro armonia complementare, soprattutto sullo schermo, ha creato innumerevoli fanbase sui social media, sollevando la domanda sono davvero amanti? Mi ha fatto venire in mente la domanda. Sebbene la relazione tra Kanyaman e Dimet Özdemir abbia lasciato un impatto positivo sulla vita e sulla carriera di entrambi gli attori, ha anche dato luogo a molte speculazioni e discussioni. A questo punto, la maggior parte dei commenti fatti sui due attori consistevano in commenti che li paragonavano tra loro, analizzavano la profondità della loro relazione e speravano che avrebbero portato la storia d'amore sullo schermo nella loro vita reale. Il fatto che la loro relazione sia rimasta nascosta ha continuato a essere motivo di curiosità per i fan non solo in Turchia, ma anche sulla scena internazionale. L'insediamento di Kanyaman in Italia, il suo successo in Europa e la sua carriera in Turchia contemporaneamente sono stati forse un punto di svolta per lui nell'evoluzione della loro relazione. La popolarità che Yaman ha guadagnato in Italia, ricevendo offerte per recitare in serie tv in Europa e soprattutto contratti pubblicitari, gli hanno dato una grande svolta nella sua vita. D'altra parte, Dime Tosdemir si è fatta un nome nel mondo della recitazione intraprendendo progetti di successo nella sua carriera. Soprattutto la sua interpretazione in progetti come La casa dove sei nato è il tuo destino e il mio nome è Fara ha dimostrato il suo talento recitativo e ha ulteriormente ampliato la sua base di fan. Allo stesso tempo, ha costantemente stabilito una connessione con i suoi follower attraverso i suoi post sui social media e ha mantenuto la sua popolarità presentando sezioni della sua vita. La possibilità di un amore lontano dagli occhi, più vicino ai cuori. Le voci e le notizie dei tabloid sulla relazione apparentemente amichevole della coppia a volte li hanno avvicinati e talvolta li hanno allontanati. Entrambi gli attori hanno scelto di non condividere i dettagli del loro rapporto con i media. Ciò ha portato i fan e i media a cercare maggiori dettagli sulla vita privata di entrambi gli uomini. Ciò che però non è passato inosservato è stata la loro armonia e amicizia non solo sullo schermo ma anche nella vita reale. Questa armonia si rifletteva nella fiducia e nel calore evidenti negli occhi di entrambi gli attori. Questa situazione ha fatto sì che il pubblico si chiedesse c'è dell'amore tra loro? Ha sollevato la questione molte volte. Dicono che gli occhi non mentono, soprattutto se guardati con occhi amorevoli. Gli sguardi affettuosi e affettuosi che Kanyaman e Dimethos Demir hanno mostrato l'uno verso l'altro non sono stati cancellati dai ricordi dei loro fan anche dopo la fine della serie. La sincerità e l'energia amichevole in questo contatto visivo sembravano indicare quanto fosse profonda e pura la relazione tra loro. Forse il fatto che le strade della coppia si incrocino nuovamente in futuro rimane una delle più grandi aspettative dei loro fan. I percorsi divergenti nei loro percorsi professionali possono intersecarsi nuovamente? Il trasferimento di Kanyaman in Italia dopo la serie gli ha aperto la strada per costruire una nuova carriera in Europa. È diventato una celebrità internazionale con le serie tv girate in Italia e gli eventi a cui ha partecipato. Yaman, che ha conquistato il cuore del pubblico italiano soprattutto con il suo progetto Sandokan, ha fatto passi decisi verso la creazione del proprio marchio. Kanyaman divenne noto come uno degli attori turchi più conosciuti in Italia, e questo gli permise di costruirsi una vita lontano dalla Turchia. Dimet Özdemir, invece, ha scelto di restare qui concentrandosi su progetti in Turchia. Continuando a migliorarsi nel campo della recitazione, Özdemir ha ricevuto consensi per le sue interpretazioni in progetti in Turchia. Dimet, che ha aperto una nuova pagina nella sua carriera provando ruoli diversi, ha continuato a progredire nella recitazione pur mantenendo la sua popolarità. Tuttavia, nonostante tutti questi sviluppi, il legame tra Kanyaman e Dimet Özdemir rimane ancora forte e caloroso. Il fatto che entrambi i giocatori abbiano intrapreso percorsi diversi nella loro carriera non ha in realtà danneggiato il rispetto e l'amicizia che avevano l'uno per l'altro. I fan aspettano con impazienza che i due si riuniscano sullo schermo o nella vita reale. Si uniranno nella vita reale. Le recenti notizie sui media e le voci sui social media hanno riportato di nuovo all'ordine del giorno la possibilità che Kanyaman e Dimet Özdemir si incontrino. Questa relazione, diventata una leggenda agli occhi dei suoi fan, ha portato molti a chiedersi è possibile un lieto fine? Lo induce a porre la domanda. Considerando il rispetto e i rapporti amichevoli esistenti tra le due parti, questa possibilità può ritenersi non remota. Tuttavia, nel mondo delle riviste, tali rapporti possono spesso concludersi con sviluppi inaspettati. Se Kanyaman e Dimet Özdemir si uniranno in futuro dipende interamente dalle loro preferenze personali. Sebbene entrambi gli attori abbiano scelto di tenere la loro relazione sotto il radar in passato a causa delle responsabilità della loro carriera, i loro fan continuano a sperare che possano vivere una relazione felice. Relazioni che lasciano un segno nel nostro cuore, sguardi calorosi che non mentono nei nostri occhi, a volte sono solo amichevoli e talvolta appaiono come espressione di profondo amore. Possono Yaman e Dimet Özdemir ispirare i loro fan sia con la loro carriera di attore che con la loro amicizia. Questa relazione, dove gli occhi non mentono, potrebbe un giorno trasformarsi in un vero amore e completare la loro storia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.